2500 anni che gli esseri umani vanno a teatro. Ma come era il teatro quando era appena nato? Ecco, 5 curiosità che forse non conosci sulle origini dell'arte teatrale. Il teatro occidentale, quello che conosciamo noi oggi, è nato nell'antica Grecia. Ai tempi di Atene e Sparta, però, il teatro era profondamente diverso da quello nostro. Nonostante siano passati circa due millenni e mezzo, ancora oggi vengono messe in scena commedie e tragedie scritte da alcuni degli autori teatrali più importanti dell'epoca, come Euripide e Sofocle. A proposito di questo, alla fine del video ti dirò quali sono, secondo me, le tre opere teatrali dell'antica Grecia che devi assolutamente conoscere. Piccola premessa, quello che sto per raccontarti potrebbe non essere esatto al 100%, ovviamente nessuno di noi è vissuto nell'antica Grecia e può venire a dirci come funzionavano le cose esattamente. Ma grazie agli studi fatti sui testi teatrali giunti fino a noi, sui resti degli antichi edifici teatrali e su altri reperti archeologici, gli storici hanno ricostruito in maniera più o meno verosimile quello che potrebbe essere stato il teatro nell'antica Grecia. Prima di scoprire le 5 curiosità sul teatro greco, ti invito a iscriverti al canale YouTube di Teatro per Tutti, dove potrai trovare tantissimi altri video sulla storia del teatro, sulla storia del cinema e tanti altri video in cui parlo di arte e di spettacolo. Vediamo adesso se sapevi queste 5 curiosità sul teatro dell'antica Grecia. Per gli antichi greci andare a teatro non era un passatempo. Uno dei cardini della società greca era la religione. Ogni cittadino perciò partecipava attivamente alle cerimonie religiose e questo rendeva molto unita e compatta la popolazione. Le rappresentazioni teatrali avvenivano proprio in occasione di queste importanti cerimonie religiose, in precisi periodi dell'anno. Per gli antichi greci quindi l'opzione di non andare a teatro non veniva minimamente contemplata e perfino i carcerati potevano assistere a queste rappresentazioni teatrali. Ne consegue che il pubblico di queste rappresentazioni teatrali era sempre molto numeroso. Nacque quindi l'esigenza di contenere tutta questa massa di persone e permettere a tutti di vedere bene la scena. La risposta fu la costruzione dei grandi anfiteatri greci adagiati sui fianchi delle colline per agevolarne la costruzione. Si diffusero rapidamente in tutta la Grecia e rappresentarono la prima forma ed edificio teatrale con uno schema delle strutture ricorrenti. Per la società greca la religione era strettamente connessa alla politica. Le rappresentazioni teatrali smuovevano migliaia di persone, non solamente quelle che assistevano agli spettacoli ma anche tutti gli addetti a lavori. Erano quindi un'occasione d'oro per i politici per mettersi in mostra e farsi benvolere dal popolo. Le rappresentazioni teatrali venivano organizzate in primavera in modo che le condizioni del mare fossero favorevoli e permettessero perciò l'arrivo di altre persone fuori da Atene. Gli uomini politici e i cittadini più facoltosi facevano a gara per finanziare gli spettacoli migliori. Erano infatti consapevoli che legare il proprio nome ad uno spettacolo di successo avrebbe garantito loro il favore della cittadinanza. Insomma non molto diverso da quello che capita oggi con gli sponsor. Come detto in occasione delle cerimonie religiose venivano organizzati degli spettacoli teatrali. Questi spettacoli teatrali venivano finanziati da cittadini facoltosi che ovviamente non volevano testi di seconda mano. Per questo motivo ogni spettacolo era scritto appositamente per una determinata occasione. Veniva rappresentata una sola volta in occasione di una grande premiere e non sarebbe mai stata più messa in scena. Nell'antica Grecia quindi non esisteva il concetto di replica e tantomeno quello di tournée. Perciò andare a teatro era ancora più suggestivo perché avevi la certezza di assistere a qualcosa di unico e irripetibile. Nell'antica Grecia ogni spettacolo avveniva all'interno di veri e propri concorsi teatrali. Gli agoni più importanti erano le Dionisie ad Atene. Duravano cinque giorni e alternavano le rappresentazioni teatrali ad altri festeggiamenti. Essendo celebrazioni dedicate al dio Dioniso non mancavano le cessi. Il vino scorreva a fiumi e di notte si dormiva poco. Beati loro. Ogni agone doveva avere il proprio drammaturgo vincitore. Ciascuna delle dieci tribù in cui era suddivisa la Grecia selezionava il proprio giudice tra i suoi cittadini. Ogni giudice quindi poi trascriveva la propria preferenza su una tavoletta. Ne venivano estratte a sorte cinque e dalla consultazione di queste si decretava il drammaturgo vincitore. Stando alle testimonianze a noi giunte l'autore con più vittorie in assoluto è stato Eschilo. Fare gli spettacoli di sera era impossibile. Non esistevano i mezzi tecnici per riuscire a illuminare la scena. Almeno non abbastanza per essere vista dalle migliaia di spettatori dei grandi anfiteatri. Per questo motivo gli antichi greci andavano a teatro di giorno. Non solo. Durante le rassegne teatrali come le Dionisie gli spettacoli si svolgevano in successione. Nell'arco dell'intera giornata quindi era possibile assistere dalla mattina alla sera a processioni, gare di canto, discorsi e ovviamente agli spettacoli teatrali. Prima del tramonto si svolgevano anche le votazioni per eleggere l'autore vincitore e dopo tutti a festeggiare per le strade di Atene fino a notte fonda. Arrivati a questo punto ti dico quali sono secondo me le tre opere dell'antica Grecia più belle. La protagonista è Antigone, sfortunata figlia di Edipo. Giunta a Tebe decide di dare degna sepoltura al fratello Polinice anche se il nuovo re della città, suo zio Creonte, ne ha vietato la sepoltura in quanto nemico di Tebe. Antigone disobbedisce la legge dello zio e per questo viene condannata a morte e murata viva dentro una grotta. Tirese l'indovino di corte convince Creonte a liberare la ragazza ma ormai sarà troppo tardi. Protagonista di questa tragedia è Medea, la moglie del mitico Giasone. Innamorata follemente del suo uomo, Medea ha tradito e ucciso per lui, ha abbandonato la sua patria e lo ha seguito fino a Corinto. Si aspetta perciò dal marito lo stesso tipo di amore incondizionato e totalizzante e invece Giasone per questioni politiche ed economiche decide di sposare Glauce, la figlia del re di Corinto. Non si fa nessun tipo di scrupolo a lasciare Medea. Sentendosi abbandonata e tradita, la delusione e la rabbia di Medea non hanno euguali e si risolveranno in una vendetta terribile e atroce. Donna e moglie ateniese, Lisistrata è stanca della continua guerra tra Tene e Sparta. Decide quindi di convocare secretamente tutte le donne ateniese e anche quelle spartane. L'obiettivo di questo incontro è proporre loro una soluzione per far smettere gli uomini di combattere. Lo sciopero del sesso. Tutte le donne, sebbene un po' mal in cuore, accettano questa soluzione e la mettono in pratica. La storia prosegue con un sacco di equivoci e trovate divertenti fino alla realizzazione del proposito di Lisistrata. Come abbiamo visto il teatro di 2500 anni fa era molto diverso da quello di oggi. Soprattutto era diverso l'atteggiamento della società nei confronti del teatro. Sono cambiate le dinamiche, le priorità, la tecnologia. Insomma, in 2500 anni tutto il mondo è cambiato intorno al teatro. Ma nonostante tutto questa forma d'arte è rimasta sempre nei nostri cuori. Il teatro è una parte fondamentale dell'essere umano e così sarà per sempre. Spero che questo video ti sia piaciuto. Metti un like e guarda il prossimo video. Noi ci vediamo alla prossima!